Ben arrivati, ben trovati, grazie di essere venuti, siamo qui con i ragazzi, parte della scuola, professori eccetera grazie al Teatro Momo prima di tutto che ci ha permesso questa cosa e grazie anche al servizio del comune delle politiche sociali con il quale ci siamo collegati da subito all'inizio di quest'anno per fare un percorso che coinvolgesse in qualche modo tenesse conto anche nel territorio in cui la nostra scuola è sicca. Abbiamo scelto come tema quello delle paure e quindi abbiamo trattato, visto e riconosciuto anche delle paure mestrine, urbane, metropolitane, attuali che centrano un po' anche con la crisi economica e li abbiamo fatti agire nella nostra commedia accanto alle paure più tradizionali e accanto anche alle paure indotte di cui i nostri ragazzini, i nostri bambini si nutrono quando sono davanti ai piccoli schermi o ai computer o ai cinema. Abbiamo prodotto questo spettacolo e vi lasciamo, speriamo che vi diverta e buon divertimento. grazie 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 grazie